Poltrona pieghevole in legno d'olivo, intarsiata in avorio, schienale alto lavorato in stile rinascimentale, con fiori e figure, a scorrimento dall'alto verso il basso, probabilmente Milano di sera. Libreria in rocco colombardo di noce intarsiata, metà del diciottesimo secolo, e te. Libreria scritto io stile veneziano, per miglior risparmio ho decorato in oro con cineserie. Yeah, 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 I'm come you, yeah, yeah, yeah. Cassettiera veneziana, serpentina, pitturata, color crema e blu, parte alta cerata e decorata, con capolini di foglie e rilievo a scorrimento, e animali mitologici sui tre lunghi cassetti, su gambe cabriolet non ho niente su di te. Armadietto genovese, ditti icchi impiallacciato, Alessandro intarsiato e nosso, con venti cassetti intarsiati, a motivi floreali stilizzati, Contiene cassetti segreti, Tavolo romano a piedistallo di legno dorato, Con parte superiore in marmo grigio, Serpentino.